Exoratix, oggi vi presento questa bellissima Peugeot 2008 in allestimento Active Pack. Motorizzazione 1.2, benzina, 100 cavalli. Vettura aziendale immatricolata a febbraio 2021 con 36.000 km percorsi. Sul frontale troviamo subito un optional che sono i fari fendinebbia LED con funzione cornering. Cerchi in lega da 16. Specchietti ripiegabili e richiudibili elettricamente. E andiamo subito a vedere la capienza del bagagliaio. Il bagagliaio ha una capienza di 434 litri aumentabile abbattendo la panca posteriore. Il ripiano è rigido. E sotto troviamo eventuale vano per la ruota di scorta. Sensori di parcheggio posteriori per le vostre manovre. Gli interni sono in tessuto e spaziosissimi anche per cinque passeggeri. Come potete vedere il cambio è manuale, volante tipico Peugeot piccolino con tutte le funzioni al volante, touchpad per la gestione dell'infotainment compreso regolazione del climatizzatore. I consumi di quest'auto sono ottimi, percorre circa 100 km con 4,6 litri di benzina. Venite a vederla sul nostro sito, per maggiori informazioni non esitate a contattarci. Grazie. Grazie.